Da tempo l'azione politica ed indirizzo di Ance e Aies Salerno punta al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso iniziative mirate e concrete come Sisma Bonus ed Eco Bonus. Per poter attivare un piano concreto e fattivo di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio occorrono regole e norme urbanistiche semplici, chiare e di facile interpretazione ed applicazione. La Regione Campania ha avviato da tempo un percorso legislativo in materia urbanistica e regolamento edilizio che punta ad un testo unitario che mette insieme le varie norme che si sono succedute negli anni. Ma cosa più importante in questo momento è la condivisione di un percorso legislativo sui temi di recupero e della riqualificazione urbana. Su tale argomento da tempo l'Aggiunta della Regione Campania ha avviato un percorso condiviso di sinergia tra le parti per il rilancio del settore dell'edilizia. In tale ottica, insieme alla Camera Amministrativa di Salerno, alla Regione Campania e con il patrocino degli ordini professionali della provincia di Salerno, del Comune di Salerno, dell'Università degli Studi di Salerno, l'ANCEIS Salerno ha programmato per oggi, venerdì 30 novembre, presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno e per domani, sabato 1 dicembre, sempre presso il Teatro Verdi, un convegno tra tutti i soggetti interessati.